Santa Domenica è una Vergine e Martire festeggiata il 6 luglio dalla Chiesa Cattolica Romana e intorno a questo culto di Santa Domenica si è creato questo percorso di devozione e di marketing e di interscambio culturale che Tropea, una città qui vicino, custodisce gelosamente il suo corpo e di cui poi ha trasferito questa devozione insieme a Scorrano che sono le comunità più forti dove questo progetto devozionale è nato. Scorrano è il comune capofila, l'idea nasce da un'iniziativa del sindaco Mario Pendinelli. Scorrano è devoto a Santa Domenica che è una santa che sembra sia apparsa nel 600 in sogno ad un'anziana signora a Scorrano in prossimità delle mura della città. Lì ha deciso di essere la nostra santa, Santa Domenica infatti non è originaria di Scorrano ma di Tropea. Ha deciso di essere la nostra santa protettrice e da quel momento noi onoriamo e festeggiamo Santa Domenica tutti gli anni con una maestosa festa il 6 di luglio. Non potevamo tenere questa fede tutta per noi, abbiamo deciso di condividerla in un percorso di promozione e valorizzazione del territorio di Scorrano ma abbracciando anche tutte le altre comunità. Il nostro comune è un comune di collina in provincia di Messina, fra Messina e Taormina a circa 407 metri di altitudine, è un piccolo paese di circa 600 abitanti. Io ho dedito a questa progettualità grazie all'amico Semeraro che è il deux ex magna di questo progetto e grazie al sindaco di Scorrano che è il comune capofila e ci hanno invitato. È un modo per promuovere i nostri piccoli territori in chiave culturale, in chiave anche turistica e no gastronomica. Santa Domenica è una giovanissima santa, bellissima, la sua bellezza, la sua forza, soprattutto d'animo perché a 16 anni ha saputo praticamente resistere alle tentazioni fatte dai romani quindi è un modello di forza, soprattutto nel suo carattere, che è un modello attuale che possiamo presentare ai giovani e quindi diciamo che questo esempio di questa donna ci lega tutti quanti, questi dodici comuni a questa bellissima rete che il comune di Scorrano ha immaginato, è avviato e adesso sta andando avanti.